Era stato sorpreso con 15 grammi di cocaina, per lui così erano scattate le manette, ma adesso è stato assolto, non spacciava infatti, bensì quella sostanza la utilizzava tutta da solo. Tutto è iniziato circa due settimane fa a Montevarchi, quando l'uomo, un trentenne vallarnese, era stato sorpreso dai carabinieri con lo stupefacente in auto suddiviso in due bustine, una quantità 15 grammi che gli era costata l'accusa di spaccio. Questo ragazzo che in passato aveva avuto un grave problema di salute con un incidente stradale aveva avuto un risarcimento importante, quindi era nella condizione di avere una grossa disponibilità economica in banca e purtroppo a seguito di questo evento in fausto ha trovato sfogo e rifugio nella cocaina e quindi ha iniziato a essere un consumatore molto importante, molto massiccio di stupefacente. Il giovane di fronte al giudice ha affermato di utilizzare personalmente tutta la cocaina, a dimostrazione di ciò anche una certificazione del CERT che ne ha attestato la condizione di tossicodipendenza dal 2014, ma non solo, il trentenne in aula ha portato anche le ricevute del Bancomat. Prelevava settimanalmente, almeno due volte alla settimana in orari notturni, 1500-2000 euro per ogni volta dal conto corrente, dal Bancomat, per fare l'acquisto di stupefacente che poi consumava attraverso una pipa che gli consentiva di creare quello che credo volgarmente si chiami crack. Un uso smodato, indubbiamente pericoloso, ma non reato. Il trentenne è stato così assolto dall'accusa di spaccio. Questo apre lo spazio a un principio per cui chi è in una certa condizione economica e dimostra la propria dipendenza, il dato ponderale della quantità di sostanza non è di per sé sufficiente a dire che è destinata allo spaccio, ma può essere destinata al consumo.